Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo ferrino agile, un nuovo restyling di cui adesso vediamo in cosa si compone per questo ferrino agile e insieme ne vediamo, oltre che il restyling, i pregi e i difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito elencando le caratteristiche di questo ferrino agile. Per quanto riguarda i materiali troviamo un Ripstop 210 modello Invisible. Inoltre aggiungo che è un 100% riciclato, quindi bravo ferrino. Per quanto riguarda lo schienale, è uno schienale di ferrino così chiamato Hollowback System, che poi vediamo come funziona. È disponibile in diversi litraggi, da 25, 35, 45 litri per l'uomo, anche due litraggi pensati apposta per il mondo femminile. Per il peso, pensate che tutti e tre i litraggi stanno sotto il chilo e noi prendiamo in considerazione quello da 35 litri, che in questo caso pesa all'incirca 810 grammi. Detto ciò, viste le caratteristiche, iniziamo con i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito a parlare dello schienale, che è il punto dove questo ferrino agile ha subito il restyling maggiore. Ovvero abbiamo uno schienale completamente nuovo, completamente rivisto, sempre chiamato Hollowback System, ma che in questo caso è formato da una spugna che va a creare dei canali d'aria che vanno a liberare il sudore dalla nostra schiena. Come potete vedere è uno schienale a metà tra l'ergonomico e il telato e questo gli dà un'ottima reazione, come vi dicevo prima, ma soprattutto anche un'ottima stabilità. Il carico è molto vicino alla schiena e questo fa sì che lo zaino sia veramente molto stabile. Infatti poi vedremo dove vi suggerisco di utilizzarlo e vedrete che questo zaino possiamo utilizzarlo anche per fare dei tratti abbastanza tecnici. Struttura a schiuma che non è presente solo sullo schienale, è presente anche su fascia lombare e spallacci. E parlando appunto di fascia lombare, anche questa abbastanza nuova proprio come lo schienale, lavora molto molto bene. Parlando di pesi, io ci porterai al massimo una decina di chili, non andrei oltre. Mi piace comunque la fascia lombare che sia molto molto avvolgente. Questo però tende ad essere un pochino fastidioso nel momento in cui nella fascia di destra andiamo a inserire un telefono perché tende a far sì che sia un po' spigoloso, da un po' fastidio portarlo in giro nella tasca di destra, ecco. Invece nella parte di sinistra troviamo un passalaccio dove poter andare ad attaccare un moschettone o comunque un rinvio, qualcosa che può servirci durante una via. Per quanto riguarda la chiusura anteriore fatta da clip, lavora bene, anche a pieno carico, resta ferma, possiamo raccogliere il cordami in eccesso, quindi promossa. Parlando di spallacci, questi hanno una sezione abbastanza ridotta per far sì che non ci diano fastidio nel momento in cui dobbiamo andare a sollevare le braccia sopra le nostre spalle, magari per fare qualche passaggio in una via ferrata. Lavorano molto molto bene, anche loro come a reazione lavorano veramente bene, non danno fastidio degli spallacci veramente ben pensati. E per quanto riguarda la chiusura, questa si muove in su e in giù sul suo binario, lavora bene, classica di ferrino, all'interno troviamo anche il fischietto ed ha anche la parte elastica per assecondare l'espansione e la torsione del nostro torace quando respiriamo. Continuiamo ad analizzare questo ferrino agile, girandolo e andando a parlare di uno dei suoi due lati. E preannuncio già che la parte laterale di questo ferrino è simmetrica, quindi ne vediamo solamente uno. Sul laterale troviamo due cinghie e la tasca dove riporre la borraccia. La cinghia inferiore non è apribile, si può facilmente allentare ma non è apribile. Quella superiore invece è apribile tramite una clip. Anche qua questo ferrino agile è cambiato un pochino perché sulle vecchie versioni trovavamo una tasca fatta in un mesh con una tramatura abbastanza larga. Questo voleva dire che pian piano si rompeva. Anche a me dopo averlo utilizzato diversi mesi dopo aver fatto la recensione hanno iniziato a avere i primi buchi. In questo caso invece la tramatura è molto più fitta e questo fa sì che il mesh alla lunga non vada a disfarsi. Quindi la tasca per la borraccia durerà molto molto di più. Per quanto riguarda questa tasca però fate attenzione che riusciamo a prendere la borraccia da soli ma non riusciamo a riporla all'interno. Dovremo o togliere lo zaino o farci aiutare. Continuando arriviamo a parlare della parte posteriore del nostro ferrino agile che qui le chicche sono veramente tante. Partendo dalla tasca in mesh bella grossa che lavora molto bene anche qua il mesh è stato cambiato e questo è molto più resistente perché è una tramatura più fitta. Quindi è una tasca che lavora veramente molto bene che io personalmente apprezzo sempre tanto. E poi la chicca di questo ferrino agile è che possiamo portare praticamente qualsiasi cosa nella parte esterna. Abbiamo delle cinghe dotazioni con cui possiamo portare o delle ciaspole o un sacco a pelo qualsiasi cosa vogliamo portare all'esterno. C'è la possibilità di attaccare la retina per tenere il casco che però attenzione non è data in dotazione da ferrino va comprata a parte però anche lì molto bene che ci sia la possibilità di attaccarlo. Abbiamo inoltre presente nello zaino la possibilità di porre o due bastoncini, uno posto a destra e uno posto a sinistra oppure magari porre i due bastoncini sul lato e dall'altro mettere una piccozza o anche due piccozze senza tanti problemi. Quindi capite che questo zaino praticamente ha davvero tante funzionalità e si apre a una moltitudine di discipline da montagna non indifferente. Per quanto riguarda invece la parte superiore di questo ferrino agile troviamo semplicemente una tasca posta nel cappuccio in cui possiamo andare a inserire qualche oggetto quindi ci sta magari un pacchetto di fazzolette, qualche barretta abbiamo il portachiavi all'interno non abbiamo una seconda tasca nella parte interna del cappuccio cioè semplicemente questa tasca esterna. Mentre per quanto riguarda la chiusura in sé dello zaino beh questo è molto semplice è fatto da un cordino che si va a tirare e lo zaino si richiude poi invece aprendo il meccanismo lo zaino si riapre quindi molto semplice, molto classica di ferrino. Per quanto riguarda il comparto acqua non è presente l'antipioggia il materiale non è neanche tanto idrorepellente quindi mi raccomando non prendiamoci l'acqua mentre per il trasporto dell'acqua come vi dicevo abbiamo le due tasche per portare le due borracce e lo schienale è compatibile con la sacca idrica con la possibilità di uscire la prolunga sulla parte anteriore. Arriviamo a parlare di materiali come vi dicevo questo ferrino agile è fatto con un ripstop invisible che è un materiale veramente veramente buono io ci ho fatto diverse vie ferrate con questo zaino e strusciato contro rocce un po' a destra un po' a sinistra non ha nessun graffio quindi secondo me è un materiale dello zaino molto buono e poi come vi dicevo anche il mesh che era una delle criticità del vecchio modello è stato cambiato in questo caso secondo me potremo andare avanti molto più a lungo prima che vada a rompersi e appunto visto che ve ne parlavo dove utilizzerei questo zaino? secondo me questo zaino ha veramente tantissimi sbocchi partendo da del semplice trekking dove comunque è uno zaino molto leggero molto ultralight come vi ho detto pesa 800 grammi ha delle vie ferrate e secondo me per le vie ferrate veramente questo zaino è perfetto veramente perfetto perché possiamo portare l'elmetto nella parte esterna e inoltre il carico è molto vicino a nostra schiena quindi non ci sbilancia per non parlare poi della fisionomia in sé dello zaino che essendo molto stretto e slanciato fa sì che potremo passare nei passaggi più stretti senza urtare le pareti e poi anche ha del semplice alpinismo ha dell'alpinismo non troppo tecnico dove magari dobbiamo portare con noi una piccozza o roba simile anche lì questo ferrino può andare veramente molto bene arriviamo dunque alle conclusioni per questo ferrino agile 35 litri ve lo consiglio sì, a me è piaciuto veramente tantissimo mi era piaciuto tanto il vecchio agile per la sua poliedricità per le sue caratteristiche che lo rendevano adatto a tanti sport e questa caratteristica me lo fa amare anche in questa nuova versione molto bene che lo schienale sia stato rivisto perché adesso è decisamente molto più traspirante della vecchia versione quindi ragazzi se state cercando uno zaino con cui fare un po' di tutto se siete persone che amano una montagna a 360 gradi fanno un weekend trekking un weekend un po' di alpinismo un weekend della via ferrata eccetera questo zaino è veramente un must have cioè dovete assolutamente prenderlo in considerazione per le vostre uscite prezzo viene venduto da ferrino ufficialmente sul proprio sito a 150 euro all island si trova a 130 secondo me ci sta considerato che molti zaini ormai superano anche i 200 euro secondo me 130 euro veramente è un ottimo prezzo per questo modello poi è appena uscito quindi probabilmente andando avanti con i mesi magari tenderà anche a scendere detto ciò ragazzi io nella speranza di essere stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione io vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao